Le mani su Musa Conè. Il Pescara spinge anche tanto sull'Atalanta per assicurarsi il centrocampista. Il 24enne Voriano scalpita per tornare in Biancazzurro e domani ci sarà l'incontro tra Peppino Pavone e Mario Giuffredi, l'agente del calciatore africano. Il Delfino ha l'accordo con l'Atalanta per il prestito con diritto di riscatto, però bisognerà trovare quello con il calciatore. Sarà decisivo il vertice di domani tra gli uomini mercato dei Biancazzurri e il procuratore di Conè. La trattativa comunque sembra ben impostata. Oltre a Conè, schiavone della Juventus e Filippo Porcari del Carpi, c'è da registrare un clamoroso ritorno di fiamma per l'ex capitano Emanuel Cascione. Il centrocampista di proprietà del Cesena è entrato di nuovo nel mirino della società. Cascione era stato vicino al ritorno già a gennaio, ma alla fine è rimasto in Romagna, dove ha vinto il campionato cadetto. Ora il Delfino fa sul serio e vorrebbe provare a riprenderlo, ma prima bisognerà convincere i bianconeri. Il giocatore ha già riscosso il consenso di Marco Baroni, che rientrerà a Pescara non prima di sabato e la presentazione alla stampa potrebbe quindi slittare a lunedì. Baroni, che nel suo staff porterà primo Maragliulo, il vice Andrea Grello, preparatore atletico, sta riscuotendo consensi tra i tifosi biancazzurri. Tornando al mercato, tra stasera e domani dovrebbe esserci l'incontro tra la società e Antonio Balzano. Il terzino pugliese ormai svincolato a una richiesta del Cagliari, ma la sua priorità è il Pescara. Il capitano vuole infatti valutare la proposta dei biancazzurri prima di dare una risposta ai sardi. Zeman spinge per portare il suo pupillo in rosso-blu. Tuttavia il 28enne di Bitonto ha dato la parola al Delfino e vuole rispettarla, dato che Pescara è diventata la sua città da qualche anno. L'offerta però dovrà essere congrua, altrimenti il terzino preparerà subito i bagagli per la Sardegna. I biancazzurri hanno parlato con il Napoli per il prestito di Luigi Sepe, ex Lanciano, ma il portiere è corteggiato anche dall'Empoli e il richiamo della Serie A potrebbe mettere fuori dai giochi i biancazzurri, nonostante la presenza di Marco Baroni in panchina. Le alternative nell'ordine sono Raffaele Di Gennaro dell'Inter e Antonio Donnarumma del Genua. Il giovane Federico Di Francesco, infine riscattato alle busse dal Parma, andrà in prestito alla Pistoiese.